buonasera a tutti e grazie per per essere qui dunque siamo qui a parlare di immagini della scienza questo perché perché la scienza da quando da quando è nata da quando è nata la scienza moderna ha sempre cercato in qualche modo di mettersi in comunicazione con un pubblico di non specialisti e uno strumento dei più importanti insieme alla ricerca di un linguaggio facile da capire è stato anche l'uso delle immagini e ecco prima enrico sciamanna parlava delle esperienze che ho fatto come giornalista ansa nel seguire alcune spedizioni scientifiche perché ho voluto farlo perché nei tempi in cui il web non era ancora diffuso come lo è oggi è stato pochi anni fa tutto sommato però in pochissimi anni il panorama è cambiato moltissimo oggi il web anche nella comunicazione della scienza ha un peso molto più forte ecco allora per esempio nel 2005 quando ho seguito la spedizione in antartide ho pubblicato delle cose sul sito dell'ansa ma con una resa che non non ha paragoni con quella che oggi è possibile in termini di di immagini di definizione di facilità di navigazione del sito e allora questa la decisione era stata proprio legata all'idea di cercare nella nella scienza il suo lato avventuroso come come un gancio per attrarre chi non è uno scienziato appunto per attrarre il pubblico e destare un interesse per un'attività che spesso viene percepita come lontana dalla cittadinanza lontana dalla vita di tutti i giorni e che però invece così lontana alla fine non è perché tutti noi dal ogni giorno utilizziamo i risultati della ricerca scientifica basta pensare ai ai telefonini per esempio o a tantissimi materiali di nuova generazione che vengono proprio per esempio dalle ricerche in ambito spaziale per cui ecco allora l'idea era quella di cogliere questo lato avventuroso della scienza per renderla più vicina al pubblico adesso con il web sale un po alla ribalta questa immagine più spettacolare se vogliamo della scienza una scienza fatta anche di immagini come quelle che vedete in questa diapositiva che sono immagini prodotte dagli stessi ricercatori vediamo immagini di nebulose immagini di cellule immagini quella che vedete per esempio alla vostra alla vostra sinistra è un'immagine fatta dai geologi che stanno studiando la crosta terrestre eppure sembrano opere d'arte ecco queste grazie queste immagini sono degli strumenti di lavoro per i ricercatori ma per un giornalista che ha scelto di lavorare sulla comunicazione della scienza possono diventare anche uno strumento utile interessante per attrarre l'attenzione sulla scienza e cominciare un discorso cioè spiegare spiegare perché è importante che che ci sia attenzione da parte della della società nei confronti della ricerca sono anni e anni che sentiamo parlare del problema dei finanziamenti questa la ricerca che in crisi i ricercatori che lasciano purtroppo l'italia e soprattutto ricercatori stranieri che non vengono in italia perché non hanno la possibilità e l'occasione di lavorare questo è un grosso problema e allora per un giornalista sensibilizzare il pubblico i cittadini al valore della ricerca vuol dire anche sfruttare questa questa capacità comunicativa che è intrinseca della scienza e se vogliamo anche la bellezza della della ricerca basta guardare queste immagini per credo per almeno per sentirsi un po incuriositi e poi e poi c'è anche un'altra un'altra dimensione delle delle immagini da un lato da un lato appunto le immagini prodotte dai ricercatori e dall'altro il modo in cui queste immagini vengono utilizzate da un giornalista e questa storia adesso diciamo che sta vivendo forse il suo momento più consapevole ma in realtà è cominciata da lunga data perché perché fin da quando è nato il giornalismo scientifico in sostanza c'è stato un modo di interpretare la la ricerca la ricerca ha cercato di il mondo scientifico ha cercato di comunicare con il pubblico dai tempi di galileo dai tempi in cui galileo scrisse il suo dialogo per esempio e da allora da allora il pubblico si è fatto un'idea della scienza un'idea che poi ha portato a anche a elaborare dei a volte dei pregiudizi a volte dei dei modelli dei simboli vediamo per esempio nature quest'anno in occasione dell'otto marzo ha voluto dedicare la sua copertina proprio alle donne ricercatrici beh guardate che immagini aggressiva che immagine diversa che danno come come dire c'è una sorta di riscossa no mi ricordo che l'otto marzo di due anni fa per esempio il cern di ginevra del quale abbiamo sentito tanto parlare quest'anno per la scoperta del bosone di higgs ha pubblicato un poster molto bello fatto di tutte le le foto delle donne ricercatrici che lavorano lì e che sono tante e che proprio l'otto marzo di due anni fa erano alla guida di tutte le macchine che sono macchine importantissime di tutti gli esperimenti del cern ecco questa questa immagine per esempio ci racconta tante cose ci racconta del modo diverso per esempio al quale oggi la società guarda alla donna che lavora nella ricerca poi ho scelto di questa immagine di einstein che da sempre un po il prototipo dello scienziato uno lo può vedere come lo scienziato un po stravagante o come il genio anche questi sono degli stereotipi della scienza e questa immagine che vedete sullo sfondo questa specie di aereo razzo che è un'immagine tipica degli anni 50 che dava l'idea di una scienza potente di una scienza proiettata verso il futuro quindi a modo suo la società ha fatto proprie queste immagini fornite dalla scienza per per dire qualcosa della sua opinione nei confronti della scienza in questo rapporto strettissimo tra tra scienza e società e tra immagini fornite da ricercatori e immagini attribuite alla scienza c'è stata c'è dietro una una lunga storia questa per esempio è una storia che è cominciata nel nel settecento dopo l'illuminismo la scienza era la scienza divulgata nei salotti una scienza per i nobili certo però era una scienza che comunque usciva dai laboratori e e che metteva in relazione il lavoro che facevano i ricercatori nei loro laboratori vediamo qui delle alla vostra sinistra vedete delle immagini disegnate da dall'astronomo italiano giovan battista cassini e e un salotto nel quale l'astronomia diventa quasi un'occasione mondana e per la fisica per esempio era successo dopo che era stato pubblicato il newtonianismo per le dame che era un libro divulgativo sulle teorie di newton scritto per da un italiano tra l'altro da francesco al garotti per le donne e così era per gli esperimenti sull'elettricità che vedete nel nella parte più bassa della della diapositiva erano anche questi occasioni proprio per per intrattenere il pubblico con quelle che erano presentate come delle curiosità però anche queste curiosità avevano avevano comunque l'obiettivo e il e l'aspetto positivo di familiarizzare alla scienza un pubblico che per forza all'epoca era un pubblico ristretto in quell'epoca la divulgazione comincia comincia a fare i suoi passi importanti nascono le prime riviste divulgative ed erano nate per iniziativa di persone singole di singoli scienziati o di industriali a volte siamo alla fine del settecento siamo in italia questa è stata la prima rivista di divulgativa mi veniva da dire di scienza popolare ma chiaramente non parliamo popolare aveva un significato diverso da quello che oggi e ed era ed era stata era nata da un'idea di un fisico che collaborava con alessandro volta che cominciò a scrivere ai ricercatori europei chiedendo di mandarli i loro articoli che lui rielaborava e a volte come e a volte pubblicava anche notizie di cronaco come questa a cui si riferisce questa illustrazione ecco questa è una delle prime immagini divulgative della scienza proprio studiata per il grande pubblico ed è un signore di Vienna che aveva tentato un volo con questa macchina che vedete qui ed è raccontata come un fatto di cronaca nascono tante notizie scientifiche pubblicate su queste prime riviste la scienza diventa un qualcosa di importante se vogliamo anche anche a livello di di utilità si qui si parla per esempio di di vaccinazioni le prime vaccinazioni contro il vaiolo la divulgazione va avanti va avanti nell'ottocento e anche l'italia ha una grande tradizione anche se molto poco nota in questo campo e non sono poche le riviste pubblicate in in italia nel corso di due secoli quindi dalla fine dell'ottocento ad oggi sono più di 80 e la loro storia è interessante perché ci aiuta a ricostruire proprio quel rapporto del quale vi parlavo del dialogo fra scienza e società queste che vedete sono alcune delle riviste pubblicate nell'ottocento e qui siamo in pieno positivismo e guardate anche dai titoli che suggeriscono proprio quest'idea di fiducia nella scienza una rivista che addirittura sceglie come titolo il progresso e la scienza per tutti parla da sola su quello che era il suo obiettivo ma è proprio un un grande fermento e la voglia di utilizzare tante immagini per raccontare l'idea dell'utilità per esempio della tecnologia è l'epoca della rivoluzione industriale e ci sono le grandi macchine ma come vedete ci sono anche le macchine che entrano nella vita di tutti i giorni nella vita quotidiana e vista pensate all'impatto che poteva avere a quell'epoca appunto avere in casa una macchina era veramente un mondo nuovo e c'era la volontà di utilizzare le immagini per spiegare per per far capire per creare confidenza con la tecnologia e questo perché perché la tecnologia comunque era utile ed era utile nella vita di tutti i giorni le immagini poi venivano utilizzate anche in un'altra chiave sempre in questo stesso periodo vengono utilizzate per raccontare delle storie per narrare e molto spesso in queste riviste a queste immagini particolari che state vedendo in questo momento si accompagnavano dei racconti che erano quasi dei romanzi dedicati alla vita degli scienziati e a volte venivano considerati addirittura come dei martiri della scienza e anche questo era un modo diverso articolato in in un'altra prospettiva ma in ogni caso l'intento era comunque quello di familiarizzare quel bambino che vedete giocare con la teiera è una una rappresentazione di James Watt appunto che già da bambino giocava con il vapore nel periodo delle delle guerre le immagini diventano ancora più vicine alla tecnologia si abbandona un po quest'aria questa dimensione del romanzo e e purtroppo e purtroppo con la seconda guerra mondiale cominciano ad arrivare immagini diverse della scienza cioè la scienza comincia ad essere qualcosa che fa paura e vi presento tutte queste diciamo questa breve carrellata storica perché io mi rendo conto lavorando tutti i giorni in questo campo che alcune alcune alcuni modelli di comunicazione della scienza ce li siamo portati dietro nel nel tempo per esempio pensate oggi a quanta diffidenza c'è in alcuni casi nei confronti della ricerca scientifica in alcuni ambiti e pensate anche parallelamente a quanto entusiasmo c'è guardate la ancora una volta la notizia della scoperta del bosone di Higgs che ha fatto il giro del mondo e poi su una cosa così difficile da spiegare e io come giornalista per esempio l'ho faticato non poco per per tanti mesi prima della scoperta insomma si capiva che ci si stava avvicinando ma la parola bosone di Higgs non non potevamo neanche usarla in un titolo perché la la perché non funzionava perché era troppo difficile e allora per per tanto tempo si è scritto particella di dio perché forse attirava di più l'attenzione era più immediatamente comprensibile e dopo invece l'annuncio della scoperta abbiamo potuto usare anche questo termine più tecnico senza problemi perché intanto avevamo spiegato che cos'era e avevamo diciamo rotto un pochino il gaccio di questa difficoltà quindi tanta paura nel dopo la seconda guerra mondiale ma anche tanto stupore stupore perché perché lì quell'idea di progresso che abbiamo visto comparire con la rivoluzione industriale si era fatta strada e anche questa era rimasta nel negli anni 50 per esempio sono un periodo di di grande rinnovamento di invenzioni di novità che molte volte sono sono accolte con questo senso di di stupore c'è questa questa alta lena no tra fiducia e sfiducia nella scienza continuano esserci immagine fedele alla tecnologia arrivano le foto però nello stesso tempo anche immagini che sono quasi da fantascienza vedete qui che c'è uno scafandro lunare un'idea di scafandro lunare dei primi anni 50 e l'idea di astronauti che lavorano intorno a una stazione spaziale c'era stata anche la voglia di utilizzare le immagini per inventare nuovi linguaggi allora si arriva perfino al fotoromanzo come vedete o al fumetto e poi e poi arrivano le immagini della scienza immagini simili a quelle che vi ho fatto vedere in apertura cioè immagini spettacolari immagini che con la loro bellezza riescono a catturare l'attenzione e che vengono utilizzati a partire già dalla fine degli anni sessanta e per tutti gli anni settanta ecco sono sono queste immagini con le quali i ricercatori oggi lavorano e con le quali i giornalisti si trovano a lavorare perché grazie proprio alla politica delle riviste scientifiche internazionali come science on nature ai giornalisti viene fornito molto materiale di questo tipo sono gli stessi allo stesso mondo della ricerca ad essere consapevole di quanto queste immagini possano siano potenti e possano essere in grado di catturare veramente l'attenzione del pubblico oltre oltre che di far capire meglio di che cosa si tratta perché diceva in apertura enrico sciamanna si parla dell'infinitamente piccolo di cose difficili da da spiegare da rappresentare e adesso la tecnologia permette di vedere di vedere molte immagini dell'infinitamente piccolo a volte quando vengono pubblicati per esempio articoli sulle nanotecnologie ci troviamo veramente di fronte a delle immagini assolutamente spettacolari e che nello stesso tempo però ci fanno capire di che cosa stanno parlando i ricercatori quando ci parlano per esempio di minuscole macchine non sono però soltanto quelle le immagini che utilizziamo per comunicare la scienza abbiamo delle immagini molto più esplicative come le infografiche abbiamo delle ricostruzioni artistiche come questa che vedete di un pianeta esterno al sistema solare oppure immagini che che celebrano non solo una scoperta ma anche un personaggio e sulla copertina di time una delle proposte di quest'anno era appunto di dedicarla a fabiola gianotti che è una delle responsabili degli esperimenti che hanno portato alla scoperta del bosone di higgs quindi dunque le immagini le immagini hanno anche un'altra valenza perché perché purtroppo posso diciamo guardiamo anche cosa succede in italia i festival della scienza come la festa di scienza e filosofia di foligno hanno un loro pubblico sono seguiti sono interessanti non è vero che agli italiani la scienza non interessa lo vedo anche dai contatti del canale scienza e tecnica che ha raggiunto anche picchi di un milione di visitatori vedo che la scienza interessa il problema non è quindi l'analfabetismo scientifico il problema è che c'è una difficoltà proprio in una buona parte della popolazione difficoltà nel comprendere i testi e questo non è certamente un qualcosa che sto dicendo io ma ci sono dei dati dei dati che purtroppo lo indicano ed è per esempio un tema che spesso un linguista come Tullio De Mauro che è stato anche ministro dell'istruzione non si stanca mai di ripetere quindi c'è questo problema di analfabetismo purtroppo un analfabetismo diverso da quello degli anni 50 però è un problema con il quale abbiamo a che fare e quindi e quindi è tanto più importante e tanto più difficile in questa situazione scrivere di scienza come farlo allora dobbiamo farlo con un grande lavoro sul linguaggio e ovviamente e un grande lavoro sulle immagini questo perché facendo una parentesi sul linguaggio per esempio perché è molto molto legato anche al discorso delle immagini parlare con i ricercatori non basta bisogna comprendere il loro linguaggio bisogna comprendere le esigenze del pubblico e bisogna mediare le due cose per cui le immagini hanno sicuramente una grande importanza in questo sforzo di mediazione perché ci aiutano non solo a creare quella confidenza con la scienza ci aiutano a spiegare la scienza e questo è tanto più importante nel web nel web possiamo utilizzare linguaggio divulgativo e immagini in un mix che finora non è stato possibile utilizzare con altrettanta efficacia questo perché perché ci offrono tantissime possibilità possiamo utilizzare tutti questi strumenti anche in una chiave interattiva dal mi piace di facebook della pagina della notizia scientifica appena pubblicata a tipi di interazioni un pochino più complessi che adesso vi illustrerò ecco vi presento quindi il canale ansa scienza e tecnica che è questo esperimento lo chiamo così che è nato tre anni fa e dove stiamo cercando di creare proprio questo cocktail di strumenti al servizio della divulgazione è un canale che ha come vedete sette rubriche aggregate per per grandi aree tematiche per esempio spazio astronomia abbiamo deciso di di unirli così come tecnologie comprende dalle nanotecnologie all'informatica internet terra e poli va dalla geologia alle ricerche sul clima e poi c'è tutta una parte multimediale come questa che vedete al centro questa finestra sulle stelle che è una delle per esempio degli esempi interattivi abbiamo scusate torno un attimo indietro chiedi ai lincei per esempio è un altro esempio di interattività chiunque ha la possibilità di mandare una domanda alla redazione che la gira all'accademia dei lincei dove i ricercatori rispondono quindi in che modo scegliamo le immagini non non soltanto per la bellezza ovviamente devono dire qualcosa la bellezza è solo uno strumento devono devono aiutare a il giornalista a fare ulteriore chiarezza quindi se con il linguaggio ci sforziamo di essere chiari e di spiegare dei concetti l'immagine deve essere assolutamente coerente cioè deve essere l'immagine che lo stesso ricercatore ha scelto per illustrare il suo articolo scientifico e che ci mette a disposizione per chiarire meglio la scoperta che va a presentare questo è un esempio ogni rubrica del canale scienza ha una parte una colonna centrale che vedete qui dedicata agli aggiornamenti schede di approfondimento su temi che possono possono sembrare un pochino più difficili per esempio in un articolo si parla di buchi neri o di materia oscura c'è il link alla scheda di approfondimento che permette di approfondire un pochino di saperne un pochino di più sono schede che non sono naturalmente una wikipedia ma sono il frutto di interviste che facciamo con i ricercatori e di sintesi che facciamo dalle ultime notizie che abbiamo pubblicato su quel campo qui c'è un esempio funzionale di un'immagine relativa alla scheda dei buchi neri è una rappresentazione artistica di come può essere fatto un buco nero però comunque efficace nell'ambito del discorso questa invece è una rubrica di foto una fotogallery che è dedicata assolutamente alla bellezza della scienza qui prendiamo le foto come se fossero quasi delle delle opere d'arte perché sono belle da vedere ma credo che anche questo sia funzionale a creare quella confidenza con con la scienza ecco torniamo sull'interattività questa era la rubrica della quale vi parlavo prima la finestra sulle stelle qui abbiamo una parte video con interviste che andiamo a fare noi qui ce n'è una all'astronauta luca parmitano che partirà a fine maggio per la stazione spaziale tutte queste foto di comete che vedete sono foto che gli astrofili ci spediscono e che pubblichiamo molto volentieri perché appunto questa interazione diretta con il pubblico ci sembra veramente importante e farla anche per le immagini mi sembra un esperimento interessante tra gli altri esempi di interattività per esempio nella recente eclissi parziali di luna così come nel passaggio dell'asteroide in quello della cometa Pan-STARRS abbiamo fatto delle dirette in streaming in collegamento con il telescopio virtuale quindi abbiamo visto in diretta sul canale scienza le immagini della cometa riprese dal telescopio e poi questo è l'ultimo degli esperimenti e anche qui di interattività ce n'è molto così come di uso dell'immagine questa è una pagina dedicata ai ragazzi in realtà è un mini sito dove ci sono notizie vedete che c'è una rubrica che permette ai ragazzi di fare delle domande le riceviamo noi e poi insieme ai ricercatori rispondiamo e soprattutto tra qualche settimana sarà online una rubrica nella quale i ragazzi possono scrivere questo è un lavoro che stiamo facendo insieme al ministero dell'istruzione e che da settembre sarà a regime adesso siamo un po' in rodaggio ma da settembre partiremo con le scuole che ci vorranno seguire che vorranno provare insieme a noi e pubblicheremo gli articoli dei ragazzi in una sezione dedicata e questo è un esempio ancora una volta di immagini immagini belle della scienza e immagini belle disegnate dai ragazzi che possono convivere perfettamente abbiamo anche poi una sezione video dedicata ai ragazzi e insomma sperando di non avervi annoiato troppo vi ringrazio grazie grazie grazie